Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna ci sono rallentamenti per il transito di un trasporto eccezionale tra Incisa Reggello e Firenze Sud e per il traffico intenso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. Si ricorda che sono chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sbostandoci sulla FIPLI un chilometro di coda per lavori tra Montopoli-Valdarno e San Miniato in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze si è verificato un incidente tra Montopoli-Valdarno e Santa Croce sull'Arno. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra la diramazione Lucca-Viareggio della 11 e Pisa Nord in direzione Pisa con chiusura degli svincoli di Viareggio Sud e Bicchio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!